Questa è la prima iniziativa nell'ambito del protocollo di intesa donne e media che questo Corecom ha realizzato unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione Pari Opportunità, all'Ordine dei Giornalisti e all'Associato al Lavoro e al Sociale. Questa è la prima iniziativa di rilievo dal valore altamente simbolico perché è nell'ambito della settimana dedicata internazionalmente alla violenza di genere. Lo facciamo con il Tenente Colonnello Rosa Vinci Guerra, con il Tenente di Vascello Ilenia Ritucci, tenuto delle donne di tutto ciò che dimostrano in Italia e specie nell'Arma. Ormai sono passati 22 anni dalla legge del 99, grazie alla quale è stato aperto il reclutamento, molto emblematico dato il fatto che gli stereotipi che ci sono adesso pongono il reclutamento italiano tra i più alti in tutto quanto il mondo.